Ecco, vedete, anche un letto singolo, perché le misure sono aiutate. Adesso lo vediamo con la modella. Per evitare che la Dragano prenda esattamente il sonno in tre secondi, significa che questa si stende veramente. Vediamo invece la modella, perché è pagata. Anche se la modella che, diciamo, l'abbiamo fatto insieme questa notte, veniva dalla sfilata, ha apprezzato moltissimo, devo dire. Guarda, vediamo i piedi. Bravissima, brava, esatto. Guardate le caviglie, perché noi donne poi, di notte, le cariglie... Guardate come va a riempire il vuoto sotto le caviglie, sotto le ginocchia. E poi anche quando ti giri, vedi anche tutte le curve del corpo. E io sto spesso dormire così. Quindi hai comunque i fianchi, comunque il polpaccio. Lo vedi anche proprio lateralmente, lo vedi che prende proprio la forma, che è proprio il lavoro che fa il topper. Infatti io quello che dico, che molto spesso, come tu dici, primo argomento, fin quando non lo provi è difficilissimo da spiegare la sensazione. Ma infatti quello che dicevo là, la rivoluzione di QVC, oltre che quando ha portato in anticipo un po' queste proposte, adesso le conosciamo anche noi perché ne sentiamo parlare, abbiamo detto, trasmissione, insomma... Grazie a tutti. Grazie. Grazie.